Anfaccio a tutti ragazzi, qui a Canlupo e bentornati in un nuovo video Oggi siamo con Azir Top, come te l'ho detto dal titolo E raga, vi volevo subito dire qualcosina Allora, come avete visto l'ultimo video di video Purtroppo non mi stanno guardando dei bei team Per chi ha seguito la live di domenica Io già sono nervoso di mio per via della scuola Comunque anche un po' dei cazzi miei, no? E voi dite, molti dicono Eh ma è un gioco che non ti devi incazzare Il problema è che non è che io mi incazzo per il gioco Io sto già incazzato il mio, come vi ho già detto prima, no? E poi mi si presentano queste occasioni, no? In cui mi ruote veramente tanto il culo, no? Perde per gente di capace, ok? Io non dico, io non vinco mai Non vinco quasi mai al... Non perdo quasi mai la ring, ma non ancora vinco quasi mai Io se vedo che quello prende una kill Non gliene do più altre, basta Gliene posto da un'altra perché sono un coglione Però basta, non è che lo porto 4-0 e poi vado a FK così Comunque siamo a zir top Ho dovuto piccare azze, sapete perché? Io avevo già fatto i tre ban Quello mi dice Ban azir perché loro hanno main azir Ora qua neanche c'è sta più il main azir Allora che succede? Picco azir Perché ho pure che lo prendessero loro Come mi ha detto questo Eh, io azir non è che sto proprio tanto forte con azir Quindi ora mi tocca andare Top con un champion che non so usare tanto bene E soprattutto contro Wukong con un champion che Finché io non faccio il se Lui mi free-attack Mi viene addosso dietro, non gli posso fare niente Mi sa che c'è uno tipo sgamato Può essere, sì Shurima Siamo con l'imperatore di Shurima Dunque ragazzi io vi ho già detto Scusatemi per Questo tipo di comportamento Spero che Quando finirà la scuola Finirà un po' tutto questo E appena finirà la scuola ragazzi ve l'ho detto Farò ovviamente i video regolari al giorno su YouTube Più molte streaming Tipo 4 settimane Di cui uno di questi giorni sarà Interamente Dedicato ai subscriber Cioè sarà subscriber shot mode E farò tipo trick 2g Uno spectator Di una partita custom tra i subscriber Quindi Sperando che ci siano al minimo 10 subscriber online Tac Comunque farò tipo lo streaming Dalle 6 pomeriggio Fino a mezzanotte credo Sarà così per 4 giorni E poi magari proprio qualche 24 ore E poi come si potrebbe far Oh le rune cos'ho su makai Mi sono messo attack speed AP E armor magic crisis per level Forse la prima cosa che ho sbagliato Sapete che Dovono essere registrati in flasca Quello che farò è farmare 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 Nooo Come ti chiedi Gli hanno stilato il blu Gli hanno stilato il v C'è Rengar Boom Ecco Zonato Ora li sarò zonato No Ecco Proprio quello di cui Ho paura V Rengar Rengar Questo mi ha fatto due EQ Ma neanche ti potessi rispondere Perché in realtà Che mi avrebbe shottato Andrò a cosa Anche un'altra vozione Lo che posso fare Aspetta un ganky Cerca di Frizzare la lane Buono Buono Dai non è più Frizzata Ma ha preso lo stesso Per la segretaria Williams Poi sono proprio di torre E tra l'altro Mio stanno sempre qua sotto Buonissimo questa cosa Io Quello che devo fare io ragazzi Questo contro Pugong Comunque non ci posso vincere Cioè non posso più Vincerne Vincerci Ma che farò È solo tenermelo Cercando di non dargli kill Cerco di non dargli kill Poi il più regol Oltre probabilmente farò L'irman della zonia Anche se sarò sotto I 20-30 grips Cioè meglio Sta sotto così Che sta sotto anche dietro Ora se te lo vuoi Va qua Tanto è utile anche con la rasso Perché Mi ha attaccato il carone a buff Non lo volevo attaccare Quanto questa lintrask C'è ancora una Quello che voglio fare io Pusciare wave Ma non però Usa l'azir Comunque Che è veramente Un ottimo jump Ok va bene così Ho ferrato troppi mine Lui si è zonato le mine Ho messo low board Almeno Così posso stare un po' più avanti Cerca comunque di zonarlo Quando lui fa stingage così Lo devo purgare Facendo io così Ecco Ah invece Sarai morto lo stesso Sarai morto lo stesso Sarai morto lo stesso Rengar sta al 6 Ah no Rengar sta al 6 Sarai morto lo stesso Ah per carità Devo frizzare la lane Potrebbe stare morto lo limite Come un mid Vuoi tanto frizzare la lane No Ok Mi ha dato pure una kill Non devo stare laggiù Avevo ricordato Proprio di finire Rengar Questo ora mi dai Mi stanno dicendo Che tipo c'è Rengar qua Quanto questo lo riscio Non il caso Quindi vi farò questi Per la prossima Per la prossima Statue di Torre No Ok Vogliamo mettere una pink qua Ragazzi Per dare controllo a Dari Tanto Io sono Io stress praticamente Mettendo una pink qua Magari posso dare un po' di controllo a Dari Potrebbe vincere la lane Un po' più facilmente Eh Purtroppo ho fatto un picco del cazzo Eh Forse pure l'ex del cannone Per rispondere Ulti La potevo mandare sotto Torre qua Non potrebbe mandare sotto Torre La potevo mandare Ah sì Adesso tipo qua Mi fa flash Un kill C'è Rengar qua Vedete come sta V-Kong No non c'è Divertita Niente So giocare così a posto Vabbè Ragazzi C'è C'è Avevo una madre di tempo Per far sentire Che ci sono più fatti Top Quanto faranno C'è lui Ce l'ho 20 sopra Un g no Ora quindi posso fare neanche niente È inutile che mi canca dopo Perché Cioè magari potrebbe darmi un po' di respiro E mettere sotto Torre i W-Kong Ma Da lì non la posso vincere Sto avvenendo sinceramente un po' di R-P-Mine Per fortuna Lei me la sta ottenendo Lui c'avrà un bel po' di gold Rispetto a me Mi sa tipo che t'ha visto Come la vedi Mi sono fatti una ghela Lui c'è Buona Buona 4,30 16 Aspetta i soldi per le scape Bravo questa gold è bravissima Buona questa azione Sono riuscito a tenerlo Vado sotto Torre E' buona lì Buona Buona Che Buona Buona non c'è da lì cioè quando potrei dispare dopo non sarebbe di punti più inutile perché tanto la torre se la prendono voglia buono quel cane io c'ho il tp up non ti fare con la wave andate a aiutarlo ora rengar potrebbe sta toppa quindi che faccio? buscio e vado via subito devo riuscire a fare il trick di mettere la ward qua da qua si ciao cane non c'ho 30 farm sopra ma non lo sapevo che andassi sopra di far cioè questo non potrò mai tradeare vedo aspetta solo il late per riuscire a fare qualcosa perché lane non farà mai niente cioè lui mi c'era sempre trade guardate mortare eh rengar frega anche con la ult che deve fare non è finito non è finito potrebbe stare qua dentro il late per riuscire a fare potrebbe stare qua dentro l'hangar non è finito non è finito perché la notte è finito è finito non è finito anche con la ultione Tipo di merda Non so se girassero Poi c'è Rengar Top Veramente non gli posso di niente a quello Mostro pure senza dore e mi campereranno top Quel TP l'avevo fatto sperando di che lascia Lo rinferò Altra La Rengarza Uncena Uncena Grazie a tutti 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 No sto quasi al 12 Comunque abbiamo a pari di livelli su sto Mo vedete siamo in una situazione in cui Loro si ha preso appena adesso la mid Visto che non posso andare è un'altra Tutto quello che posso fare per prendermi un'altra Io c'ho anche il tp Perché voglio è un'altra Mi sono in una situazione in cui è un'altra E' un'altra E' un'altra E' un'altra Barron forse E' un'altra E' un'altra Oh ma è un'altra E' un'altra E' un'altra E' un'altra E' un'altra Una buona cosa è un'altra Una buona cosa è che se si fida a Grease io lo posso tenere a butterhanger Anche qui non devo stare io qua Porca Comunque sto a 2 punti di 4 Ahia Voli sa sbrocca L'abbiamo dovuto in media Tra poco c'è un calo a Siva Per forza Perché Vedete Sennò c'è sta il signorino per Il signorino è il garca Potremmo fare così Ulta Prende uno E poi Ma ora c'è Grease che fa veramente tanti danni Magari prendesse la ulti pure Facesse ancora di più Ne farebbe ancora di più No vabbè No vabbè No vabbè Così no Ma fai difendere la tela top Certe volte Anche se state dalla parte del giusto Purtroppo State dalla parte del sbagliato Lo stesso Fortuna a Vcom Sono riuscito comunque a regolare De farne A tenere chi è testa Il picciolo Guardate il punto però Quando corre Processa wave top Dobbiamo gruppare per fare No Quella kill era per me Poi Vain Ah io è morta per me Potremmo anche seggiare Grazie alla mia passiva Niente Buono Sto a tutti Mi posso portare a casa luce E non ci portiamo a casa un altro break Non sta solo gruppati Vedete Rengar Se stiamo gruppati Rengar Allora Rengar è forte In questo punto Perché di solito Se la lista pusha Uno va da solo E va a cleararla E contro Rengar So pochi che riescono a vincere Uno verso nessuno Se noi gruppiamo In questo esatto momento Rengar Non sfrutta questa cosa Non sfruttiamo questa cosa Ragazzi Possiamo vincere facilmente Faccio questo Adesso è venuto a Renzini Che c'ho La La Di tempera Quella non fa Non si vado a coprire A top Questa vita Mi do quasi anche il trinket Renzini Me la vendo Perché Mi maxi il trinket Qua dove sto attento Perché se tipo Sta là Buono Buono Ma se neanche muoio Tanto sono riuscito a fare soldi Qua ho risbagliato Un'altra volta io Perché là Con quella vita E colpa umana Non c'è dovevo sta Però ho fortuna che Si è stato bravo Ed è stato l'unico Che è venuto a difendermi Sono morti Due loro Pramente Most damage E rimane Exeret Però Volley Dovrebbe Il bello Devo dare anche Un'ottima idea Bravo Ari Bravo Ari No 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 Ari K K Da vinto Siccome Signore Voli Non so smaitare So smaitare solo per fregare i blu Solo questo So smaitare Ecco Non flamerò Non flamerò perché Tanto ormai Che flamma fa La cazzata l'ha fatta Ce l'ho segreta Poi 400 HP Neanche di che magari Fa danni quando sta 1000 HP Tutti insieme No Il Baron stava A 700 Oh come on bro Why Ma avete visto Che ha fatto No dai Ma perché sempre a me Perché sempre a me Io voglio sapere Perché Cioè Non è Un game Facilmente Vinci Vincibile Si può dire Vincibile Va lì Non c'è ora Abaddon però Sta trollando Voli Fai come cazzo Di mare Poi dobbiamo Angaggia subito Non ho fottuto C'è Brooktop C'è Brooktop C'è Poi Poi Non capisco perché i crisi sono andati via Sarebbero morti in l'uomo Avrò le sue ragioni per essere scappati Sono lì Non ho senso Ecco ragazzi Bello 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 Ecco il motivo Oh come on bro Non capisco queste versione veramente Grazie 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 Quell'altro lì c'ho Stop Flaming Vault Sta fa perdere il game Un po' che lo sta a flamma Ma questo è già da prima Perché gli ho detto che ho sviluppato Sto blu E lui ha deciso Lui ha deciso Ha deciso di Di slarmi Lo fa apposta questo offrello smite Per il mio l'ho fatto apposta È un troller questo Per il mio l'ho fatto apposta Il mio l'ho fatto apposta Il mio l'ho fatto apposta Non so come siamo orto presi sinceramente Ti voglio dover knuckle Per il mio l'ho fatto apposta Rengar per fortuna ancora non è spawnato Quindi posso fare webcast Perfetto 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 Mio dio e danno di Xerath Cioè Ari è rientrata nel fight a buffo Io qua ho affellato perchè ho fatto un flash ultimo assurdo Cioè ho affellato la ultima Sto pensando a cosa fa Mi faccio l'eco, ma sto game lo perdiamo ragazzi Da quel troppo di volley Cioè avevamo vinto sto game L'avevamo già vinto Vado a push a bot Cazzo di game vinto Puro leone è uno scandalo Buono, però quello è meno di Gary Poi vedi se sta giocando anche bene Tipo ora la infatti Ari se ne è andato Perchè si volta Rengar e muore C'ha Moonfree, vado Ok Rengar sta lì Quindi qua la wave la push fast Anche qua si fa bene la push la wave Anche Grace deve stare attento qua Lol Sono venuto di sotto da ore Sono venuto di sotto da ore Sono venuto di sotto da ore Non ci credo che non ho perso sto game regà Vabbè qua io sono morto da stronzo Ma non ci sto proprio a vedere Però veramente Perchè voglio tutto trollare Perchè Non ho senso tutto il disco Allora Arrivo a resistere Grazie 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 Vabbè Sono belli Oh! Poi dico perché lui non si deve Incazzare Poi dico perchè lui non si deve Incazzare Vabbè Tanto Diamond shoot in merda Queste Se li beccherai nella vita reale Questi qua gli spaccherai la faccia Vi giuro Gli spaccherai la faccia Al son dei cazzotti Pure Arigan è capace di giocare Sotto Ho visto tipo due o tre volte Che è l'ultima L'ultima cosa Via Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie. No Voli Instrolling Ass Non lo capisce l'una Che ci sta trullando Che ci sta trullando Bello Vai Scrivete nei commenti Dai Che l'altra partita Sennò perché Cobain Ma vanno costretto a piccare Azir Quella prima Mo ha scritto Che ha scritto quella Io ho testo di bannarlo Dopo che non l'ho bannato Perché l'ha detto Che avevo già fatto i tre ban Mi ha detto Ban Azir Che cosa fa Che cosa ha fatto Mi dice picca questo No veramente Voglio attrullare il game E non so il motivo Ma ragazzi Iscrivetevi nei commenti Che pensate Che va